Il palazzo lo vince ed il Messina ringrazia. Allo scrofani salustro la squadra gialloverde impone lo stop alla vicecapolista Cosenza, contribuendo così ad avvicinare quella dello stretto al traguardo Lega Pro. La prima palla goal del match è Dei Silani, con questo impreciso colpo di testa di Cavallaro su angolo di Guadalupi. Al tredicesimo però il risultato si sblocca. Lancio dalle retrovie per Mazzeo, che approfitta di una colossale ingenuità del portiere Cutrupi e con una spettacolare rovesciata indirizza la sfera nella porta sguarnita. Due minuti dopo l'autore del gol smarca Ike, che crossa dal fondo senza però trovare compagni pronti a spingere il pallone nel sacco. Il Cosenza pareggia al ventisettesimo quando Mosciaro disegna un morbido traversone per la testa di Guadalupi, che batte l'incolpevole Scordino. Veemente la reazione dei padroni di casa. Al trentunesimo infatti il palazzolo guadagna una punizione dal limite, che però Mazzeo indirizza sopra la traversa. Qualche minuto più tardi Ike delizia la platea, saltando avversari come Birilli e calibrando un pallonetto col contagiri, che però non beffa il portiere ospite. Il gol vittoria arriva dopo una manciata di secondi dal fischio di avvio della ripresa. Lo realizza Aperi, con un grandestro dal limite che sorprende Cutrupi. Gol bello ed importante, che merita di essere rivisto. Doccia fredda per gli ospiti, che solo al ventitresimo si rendono pericolosi con l'incornata di Marano, che lambisce il palo. In pieno recupero, occasionissima per il pareggio, con il tiro cross di Gasamana, che attraversa tutto lo specchio della porta. Il palazzolo tira un sospiro di sollievo e può festeggiare tre punti importanti con i suoi tifosi. Siamo contenti per la prestazione e per la vittoria, che non era semplice. Non so quanti oggi pensavano che il palazzolo battesse il Cosenza, però è un campionato dove abbiamo sempre detto che si può vincere e perdere con chiunque.